Tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della seconda corsa del pomeriggio. Ripiega subito Luca Nebby che si porta all'interno a parte forte After Effects con ai suoi fianchi Osmunda, seconda linea invece formata dall'interno verso l'esterno da Trazione d'Amore, Royal Cotai, Siegfriedo, Red is the Rose, terza linea completata da All or Nothing. Luca Nebby, all'esterno di tutti c'è Conteguido. La prima parte di gara è scivolata in questo modo con un'andatura non esagerata da parte di Osmunda che è in leggero vantaggio nei confronti di Red is the Rose. Tra i due si presenta Siegfriedo, all'esterno c'è Conteguido, all'interno ci va invece anche After Effects che è attualmente il favorito, c'è un ventaglione a 400 al traguardo con Red is the Rose sotto la minaccia di Osmunda che ha provato a prendersi di nuovo la leadership. Di dentro ci va After Effects, all'esterno di tutti ci sono Conteguido ed All or Nothing deve trovare lo spazio, in questo momento non c'è per Luca Nebby con 4 cavalli in lotta in leggero vantaggio, Conteguido, All or Nothing ci prova ancora Red is the Rose, 3 cavalli che finiscono praticamente simultaneamente sul traguardo. Quello che non ha trovato lo spazio è stato proprio Luca Nebby. Dovrebbe aver vinto ancora Conteguido, ma dobbiamo rivedere lo stretto perché sono arrivati praticamente non 3 ma 4 cavalli su di una linea, direi che solo Luca Nebby non è riuscito a entrare nella terra, ma rivediamo il tutto con Conteguido. All or Nothing in lotta e secondo me All or Nothing l'ha portata a casa, anche se il tempo di galoppo è sfavorevole, direi che la percezione dalla nostra postazione è tutta da verificare perché in effetti Conteguido rimette la testa avanti proprio sulla linea del traguardo. Terzo posto per Red is the Rose, quarto per Luca Nebby, 4 cavalli in lotta, bellissimo esito da Capanelle. Per la seconda è tutto in attesa di ufficializzazione. Grazie. 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 Grazie.